Il pallone è avanti per il scorso, il pallone al centro, una bella palla a Pesanica, questo è sempre festa. Il pallone è avanti per il scorso, il pallone è avanti per il scorso, il pallone è avanti per il scorso. Il pallone è avanti per il scorso, il pallone è avanti per il scorso, il pallone è avanti per il scorso. Il pallone è avanti per il scorso, il pallone è avanti per il scorso, il pallone è avanti per il scorso. Il pallone è avanti per il corso, il pallone è avanti per il scorso, il pallone è avanti per il scorso. Ross, attenzione, prendiamo, guarda lo scambio, compagni, buon Ross, e pallone per il posto. Abbiamo la presenza, c'è la testa, la testa, il pallone, e questo. Abbiamo la presenza, il pallone è tagliatissimo, un pallone è passato, il pallone è passato, il pallone è di secca verso il cittadino, e con il pallone è passato, non c'era di aspettare, perché il testo era poco liquido, e lo stato per quanto la vita è, è crescita la presenza. Abbiamo la presenza, il pallone è passato, il pallone è passato, il pallone è passato, il pallone è passato, e questa volta è Davide in testa! Ancora una prudezza da parte della Mazzaraese, Ancora noi. Che gioco! Attenzione! Oh! Questo com'è, il pallone è passato. Oh! Un pallone! Un pallone è Speaker 1! Il pallone è applicabile. Adesso un pallone è imposto, e questo gioco ancora... Il pallone è muovo, un pallone è passato, Grazie a tutti!